Esiste un'alternativa alla pasta termica? Sì, esiste, è anche molto pratica e semplice nel suo utilizzo, nella sua installazione, che è uno dei punti deboli della pasta termica, no? Paura, quella siringhetta, ne metto troppa, ne metto poca, no? Gelit Solution ha pensato a questi base ultra. Cosa sono? Sono dei pad? No, è pasta termica? No, io li chiamerei pasta termica adesiva, insomma. Una cosa che sembra quasi un adesivo di vinile che andate a mettere sul processore e fa lo stesso ruolo della pasta termica, anzi, si trasforma in vera e propria pasta termica quando è sottoposto a calore. Ma maggiori dettagli a riguardo di questi Heat Freeze Ultra di Gelit Solution, dopo la sigla. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti per SediAdWords. Sono Davide e con l'introduzione. Oggi siamo con queste due piccole scatoline di Gelit Solution. Che c'è sta dentro? Ci stanno due pad molto simpatici e carini che ci aiuteranno a dissipare il nostro processore senza l'utilizzo della pasta termica. Pad è un modo abbreviato che utilizzerò durante il video, credo spesso, perché mi viene quasi spontaneo chiamarlo pad. Ma in realtà non è un pad, non è manco pasta termica. Credo nell'introduzione ho detto bene, una sorta di pasta termica adesiva, perché all'interno non c'è altro che un filo di plastica dove sopra c'è sta questa pasta termica. Va messa proprio come un adesivo, non so se avete mai installato adesivi prespaziati in vinile. Più o meno lo stesso effetto. Una di plastica trasparente sopra, una bianca sotto e in mezzo. C'è sta sorta di strato di pasta termica. Effettivamente non è pasta termica, il nome tecnico è Face Change Thermal Interface. Insomma, interfaccia termica a cambiamento di fase. Sì, parole complesse, ma di per sé, ve lo riassumo, pasta termica un po' più solida, ok? Che appunto ha questo film, che se andate a metterlo sopra il processore si attacca. Però effettivamente fa lo stesso ruolo della pasta termica. La vera domanda è, lavora uguale? Lavora meglio? Lavora peggio? Beh, ma grazie a dei test, cerchiamo di capirlo. Ma prima di attaccare e parlare di questi pad, beh, vi invito a scrivervi al canale, ragazzi. Bottoncione rosso è gratuito, trovate qui sotto, like, commentino. Vedete tutto il video e fatemi sapere che ne pensate di questi cosi nuovi, alternativi. Stanno uscendo varie soluzioni, perché mi rendo conto che la pasta termica è uno di quei punti che se uno deve assemblare un PC, inizia a avere un po' paura, no? Dice, ne metto poca, ne metto troppa, se va in giro, a destra e a manca, sporco di qua, sporco di là, posso far danni. Insomma, mo li vediamo nei test, però appunto, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Giù in descrizione trovate i link per acquistarli, vi do il link al sito di Jelly Solution direttamente, ma penso che li trovate comunque anche a destra e a manca. Oltre ai pad mi hanno anche inviato la pasta termica GC4, che anzi, poi vi dico anche come si comporta pure lei, che per il costo pure lei per niente male. Giù in descrizione, oltre a questo, ci sta anche il link del canale delle offerte, chat di gruppo, insomma, solida surf. Ma detto questo, prendiamo e attacchiamo e parliamo un attimo delle caratteristiche di questi paddini. Intanto, se andate sullo store di Jelly Solution, trovate due misure, quello di AMD e quello di Intel, perché, perché ovviamente in base al processore cambia la dimensione. È una sorta di risico, ragazzi, quindi immaginate che deve essere della forma del processore. Anzi, se vedete quello di AMD sembra un quadrato, effettivamente dite non posso montarlo sui Ryzen 7000. Diciamo che se monta, io qualche grattacapo ce l'ho avuto, poi ne parliamo ovviamente dopo. Però vi ricordo anche che, oltre a montarlo sul processore, perché ecco come se monta, se prende l'adesivo, lo mettete sul processore, lo stendete magari con una carta di credito e poi togliete veramente il pezzo del plastica, rimane attaccato al processore. Potete fare la stessa identica procedura anche sul plate del vostro dissipatore. Stato di fatto che appunto ci stanno queste due misure, tutte e due sono compatibili con tutti gli Intel. Io per esempio, ecco, quello di Intel l'ho montato sul 13600K, mentre quello di AMD l'ho montato sul 7800X3D. Che caratteristiche hanno? Sicuramente la facile installazione è uno dei suoi punti di forza, ma in termini di conduttività termica, quindi trasferimento del calore tra il processore e il dissipatore. Come si comportano? L'unità di misura che bisogna utilizzare, il Watt per metro Kelvin, abbiamo un valore che è PAI a 8,5. Che se prendiamo valori di paste termiche, esempio la Noctua NT-H1, ci ha come valore appunto 8,5. Quindi è equiparabile a quella, teoricamente. Noi nei test, come ho detto, utilizzeremo la GC4 di Jelly Solution, che è una pasta termica che non costa troppo. Costa 8 euro, 3,5 grammi. Quindi un costo molto abbordabile. Purtroppo non ho come misurazione i Watt per metro Kelvin, quindi non posso dirvi quello. Posso però dirvi che è una buona pasta termica, perché ho fatto dei confronti con l'MTH2 di Noctua e siamo lì con le temperature. Si passano un grado di differenza, ma il grado di differenza è frutto anche del margine terrore, quindi praticamente vanno uguali. Caratteristiche importanti di questi pad non conducono elettricità, quindi se li sbagliate, se sbordano a qualche parte, eccetera, non c'è problema. Lavora TOC da un range di temperature che parte dai 50 gradi fino ad arrivare a 125 e ha un cambio di fase appunto. Vi ho detto, il nome è Face Change Thermal Interface, perché appunto quando arriva a 45 gradi in un certo senso cambia fase, ok? Inizia a lavorare in maniera adeguata, motivo per cui in IDOL non nemmeno rende troppo ad hoc, ma insomma ne parliamo durante i test. Parliamo dell'installazione, vi ho detto, l'ho installato sia su AMD sia su Intel. Su Intel, vi devo dire, ragazzi, non c'è avuto problemi. Prendete il processore, smontate il dissipatore che ce l'avete, ce lo piazzate sopra, prendete l'adesivo, togliete quella, la plastica, quella trasparente, lo attaccate, e è un po' come se state mettendo davvero un adesivo per spaziato in vinile. Stessa procedura, prendete magari una carta di credito, io ho preso un pezzo di plastica, diciamo rigido, per stendere bene, poi lo tirate da una parte e niente, rimane attaccato al processore, tutto a posto. Dal mio punto di vista avrei fatto dei pad leggermente più piccoli, proprio perché poi quando andate ad installare il dissipatore che va a schiacciare, ragazzi, alla fin fine è un po' come la pasta termica, quindi tende a sbordare sulla parte ai lati. Effettivamente, infatti, quando ho smontato poi il dissipatore sul plate sotto, c'è proprio la forma, ok? E anzi, lo vedete, quando lo installate è molto rigido, no? Sembra quasi un film di plastica, non proprio pasta termica, se lo toccate rimane un po' rigido. E effettivamente, quando lo andate a togliere, sì, mentre lavora si trasforma in una sorta di pasta termica, ma poi quando si tende a raffreddare, tende comunque ad essere un po', come posso dire, difficile da rimuovere. Il dissipatore che vedete sull'Intel, perché ecco, stavo parlando del montaggio dell'Intel, è una K620, in versione speciale, la versione 0 Zoya. Non ve l'ho ancora portato sul canale, ce l'ho da in casa da un po', però ecco, visto che ci stavo in questo video, ve l'ho un attimo portato, così ve lo facevo vedere. Il dissipatore è molto interessante, ragazzi, e col 13600K non è che fa troppa fatica. È un dissipatore con un TDP da 260 Watt, però è un dissipatore molto molto imponente, e anzi, a breve lo rivedete anche sul canale su altri contenuti un po' più specifici a lui, quindi test dei dissipatori. Questo per quanto riguarda Intel, ho parlato del montaggio e anche che dissipatore utilizzeremo per i test, e che test faremo ai da 64. Per quanto riguarda invece AMD, ho avuto qualche grattacapo nell'installarlo, perché? Perché i nuovi Ryzen 7000 hanno una forma un po' particolare. Tornando nel passato, avevi messo il pad sul dissipatore invece che sul processore. Il processore con questa forma un po' particolare, quando lo vai a sdraia e lo metti anche con la plastica a tirare, non è che si stende proprio in maniera fantastica. Oltretutto io da bravo ragazzo, visto che non voglio zozzare il mio 7800 X3D, ho il Guard, quello in gomma, molto carino, anzi, se avete un Ryzen 7000 ve lo consiglio, vi lascio il link qua sotto in descrizione se volete prenderlo. Tanta roba, però ecco, effettivamente in questo caso, per l'installazione di questo, forse anche la gomma non ha aiutato più di tanto. Però alla fin fine, ecco, sono riuscito a montarlo. L'unica cosa, da un lato, nelle due alettine, diciamo, del Ryzen 7000, si è un po' strappato, quindi è rimasto soltanto al centro, che però comunque è la parte importante. Poi vedremo infatti quei due pezzettini che sono rimasti, diciamo, attaccati alla plastica. Non hanno creato più di tanto problemi, perché effettivamente poi le temperature erano buone. Che dissi pure utilizzato sul 7800 X3D per fare i test? Ho utilizzato un Dark Rock Pro Elite di BeQuiet, un dissipatorone da 280W di TDP, anch'esso doppiatore come la K620 di prima. Doppiatore ma con doppia ventola da 140 contro la ventola da 120 che ci stavano sulla K620. Dissipatore comunque costicchia, 120€ e passa. Però ecco, comunque riesce a dissipare ad hoc il 7800 X3D. E il test che andiamo a fare è un test su Cinebench, in questo caso su AMD. Su Intel ho messo delle frequenze e delle tensioni fisse, per vedere un po' il comportamento, tutto uguale, insomma. I due test come risultavano invece su AMD ottenuto normale, così il PBO attivo come lavora normale. Su Cinebench, quindi frequenze che potrebbero un po' cambiare, ma poi effettivamente vediamo che il test su Cinebench da risultati identici. Sia i da 64 che Cinebench in tutti e due i casi test da 30 minuti, quindi per vedere un po' come si comporta. E che risultati ha dato? Per quanto riguarda Intel ha dato risultati molto vicini, ma comunque inferiori rispetto alla pasta termica utilizzata, che vi ricordo era Gelit Solution GC4. Nello specifico abbiamo una VG di 86 gradi per quanto riguarda la pasta termica, 89 per questo pad. Attenzione però, visto che è il primo test che facevo, voglio stare lì a fianco e vedere un po' come si comportava. Gli ultimi 5 minuti di test sono stati quasi tutti tra gli 87 e gli 88 gradi, quindi è sceso parecchio se vedete la massima di 92 e anche la VG non rispecchia effettivamente gli 87 degli ultimi 5 minuti. Perché questo? Secondo me il pad sia un attimo, come posso dire, stabilizzato e inizia a lavorare nella maniera corretta. Però ecco, effettivamente mi premeva dirvelo perché se vedete la VG sembra che la differenza è davvero tanta, però effettivamente secondo me ci ha messo un attimo ad abituarsi, ad esistere, ad essere lì applicato sul mio 13600K. Per quanto riguarda invece le temperature in idle, 2-3 gradi di differenza, nulla di che, perfettivamente come abbiamo visto da specifiche, dà il meglio dai 45 gradi in poi. Anche il range di lavoro del pad è tra i 50 e i 130 gradi, 125 per l'esattezza, a differenza della pasta termica è tra i 30 e i 150. Per quanto riguarda invece il test su AMD, vi ho detto Cinebench R23, loop di 30 minuti, come è andato? Allora, intanto lo score ha dato stesso risultato, anzi 100 punti in più per quanto riguarda lo score appunto su R23 sul test con il pad. E per quanto riguarda il risultato, le temperature in AVG sono le stesse, cambiano i decimali, sia per quanto riguarda la temperatura massima, che è 82 gradi, 8,2, stiamo lì, e 80,2, 80,8 per quanto riguarda. L'AVG stesse, temperature ragazzi, quindi come lavora sto paddino? Lavora bene per quanto mi riguarda, sembra che non ci siano problemi. Oltretutto vi ricordo che Cinebench ho avuto quel piccolo intoppo per cui sono strappati due pezzettini nelle alette del Ryzen. Qui nasce una riflessione che poi vi porto ora nelle conclusioni. Entriamo appunto in queste conclusioni dicendo che sicuramente questi paddini, questa pasta termica adesiva funziona bene, nel senso non è un qualcosa come i pad, che effettivamente ho visto dei pad, poi quelli che costano in più, quelli che costano in meno, effettivamente poi bisogna anche vedere che perdono un po' dalla pasta termica. In questo caso ci troviamo davanti una soluzione di semplice installazione, perlomeno su Intel, su AMD, è di semplice installazione se lo fate sul plate del dissipatore, perché sul processore, almeno su Ryzen 7000, poi i 5000, secondo me è la stessa semplicità che ho trovato su Intel. Però nel complesso vi aiuta molto nell'installazione, perché prendete un adesivo, ce lo piazzate, certo centrarlo ad hoc non è semplicissimo. Oltretutto qui, ecco, voglio fare una riflessione che è appunto collegato con quello che è successo sul mio Ryzen 7 7800 X3D. Mi si sono strappati due pezzetti sulle alette che effettivamente non hanno impattato proprio zero le performance. Questo perché effettivamente si possono fare dei quadratini molto più piccoli, essendo una sorta di pasta termica poi quando andate a schiacciare, si stende. Ok, abbiamo visto come quando ho smontato il dissipatore, sul plate c'è stava quei bordi che strabordavano su Intel, che appunto è un po' come quelli della pasta termica. Quindi effettivamente si possono fare leggermente più piccoli, invece delle misure che hanno scelto Gelid, quindi 40x40 per AMD, 40x30 per Intel, farli leggermente più stretti e ottenere praticamente qualcosa anche di più semplice installazione per centrarli, eccetera. Però in termini di performance sono rimasto colpito, perché effettivamente va come la pasta termica. I test di Intel, vi ho detto, si è dovuto un ottimo abituare al pad, perché nell'ultima parte dei test aveva le stesse temperature da Gelid Solution GC4. Piccolo appunto anche sulla pasta termica, visto che la GC4 l'ho testata e vedo lì, a parità di confronto con la Nocto NTH2 abbiamo avuto le stesse temperature, quindi anch'essa una buona pasta termica, poi ovviamente bisogna vedere quanto dura nel tempo, però è comunque un risultato interessante, ed è giusto dirlo. Che bevi ragazzi, spero che vi ha fatto piacere vedere qualcosa di diverso, perché ecco, la pasta termica è sicuramente uno dei punti in cui uno nuovo che deve assemblare un PC potrebbe un attimo scapocciare, perché dice ah, c'ho paura che ne metto troppa, ne metto buona, con questo ente sbagli, metti, e hai risolto. La vera domanda è quanto vi costa sto scherzetto? Allora, Gelid Solution vende sia quello di AMD che quello di Intel a due prezzi diversificati, al momento sul loro sito 9€, quello di Intel 9,25€, quello di AMD. Mi pare ovvio ragazzi, non è riutilizzabile, una volta che lo installate, quando lo andate a togliere, prendete e buttate tutto, quindi costa caro se ci pensate che il tumbetto del GC4 vi costa 8€, 3,5 grammi, che fate almeno 10 ripastate, e qua invece lo usate una volta sola. Per la semplicità di utilizzo, poi ecco, a detta di Gelid Solution, dovrebbe anche durare tanto nel tempo, di più della pasta termica. Che dirvi? Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, sono andato un po' alle lunghe, però era giusto fare un po' di spiegazioni, perché sì, poi i test sono corti, però ecco, mi sono ritrovato a spiegare un attimo quale sono le bench dissipatori, i vari test, quindi, me sono un po' di lungato. Fatemi sapere nei commenti che ne pensate, lasciate un like, iscrivetevi, e grazie per vedere i miei video, perché è molto importante. Un saluto dal vostro Davide, dal piccolo Baby Yoda con la testa fluttuante, e ci si vede a un prossimo video. Ciao!